ciao a tutti ragazzi in questo video vediamo come cuocere i peperoni in padella prima di iniziare con la ricetta se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanella per non perdere i prossimi contenuti per prima cosa lava e sbuccia i peperoni poi taglia le striscioline o a fettine come preferisci se vuoi provare a coltivare i peperoni sul balcone non devi far altro che mettere i semini in un bicchiere pieno d'acqua e mantenere solo quelli fertili ovvero quelli che andranno sul fondo metti la padella sul fuoco verso un po d'olio e peperoni puliti e tagliati con un mestolo mescola i peperoni in modo da farli bagnare con l'olio cuoci per qualche minuto e poi aggiungi ancora un filo d'olio una tazzina d'acqua e sale a piacere cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti continuando a mescolare di tanto e tanto. Si usa un piano a induzione e continua la cottura impostando la potenza di 500. I peperoni saranno pronti quando si saranno ammorbiditi e colorati. Per questa ricetta è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sei iscritto iscriviti attivando la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!